Il giorno seguente accendere la macchina, mettere una caraffa vuota, azionare il tasto wash, erogare tutto l'interizzante. Chiudere quando è finito, prendiamo una caraffa d'acqua e la prezziamo nella vasca superiore. Togliate la prima caraffa, una caraffa cuida e erogate di nuovo tutta l'acqua. Chiudete. Non c'è più schiuma, quindi rigenzate, è stato rimosso. Dopo l'acqua è pulida, posso chiudere e spegnere wash.